Alla partita in casa loro abbiamo perso alla fine dell'ultimo inning e quello un po' ci ha buttato giù, però ci abbiamo creduto sempre, non abbiamo mai smesso di crederci e questo ci ha portato a vincere le ultime due partite in casa nostra con grande soddisfazione. Un momento importante quando si vince un campionato, poi mi dica la verità, ve l'aspettavate oppure è venuto? Eh sì, come dici te, giustamente è arrivata finalmente la vittoria che era un risultato che aspettavamo da cinque anni esattamente. Sì, è stato un traguardo importante a compimento di un lavoro lungo e meticoloso di tutta la stagione che ha visto i ragazzi impegnarsi al massimo. La finale ha meritato comunque, ha visto un vincitore meritevole l'Arezzo, ma al grado delle partite tirate fino all'ultimo inning, tutte vinte di un punto, quindi a segnare, a indicare appunto la parità che c'era l'equilibrio che regnava fra le due squadre in campo. Comunque il lavoro ha premiato alla fine la nostra squadra. Tra l'altro si può dire che sono soprattutto, l'importanza è che sono, parecchi sono giovani. Esattamente, come dicevi te, la squadra è composta essenzialmente da ragazzi per lo più di Arezzo, per lo più sono tutti minorenni, quindi insomma frutto del nostro vivai giovanile che negli ultimi anni abbiamo cercato di tirare su con mille sacrifici, evitando di attingere copiosamente agli acquisti di mercato. Siamo una squadra di ragazzi giovani, come ha appena detto Carmelo, quindi essendo la prima volta che affrontavamo una partita del genere, la tensione si è fatta sentire, infatti fino alla fine abbiamo avuto un po' di tensione, quindi la partita è stata un po' più ricca di errori da parte nostra, ma anche loro hanno messo del loro, però per fortuna ce l'abbiamo fatta e abbiamo spuntato con una vittoria. Che poi avete vinto, diciamo, una diatriba vecchia, ormai, tra Arezzo e Livorno. No, beh, a bando del campanilismo è stata comunque una finale tirata, fra due compagini, come dicevo, molto competitive, le partite tirate fino all'ultimo perché entrambi miratevamo comunque la vittoria, però abbiamo spuntato a noi comunque. È stata dura? Eh sì, è stata dura soprattutto nelle fasi finali, questi play-off, che essendo che lo sport è un gioco senza limite di tempo, ogni azione con un errore o un attimo di distrazione o una bravura, insomma, degli avversari ti può portare sul pareggio o sul sorpasso. Come abbiamo visto soprattutto contro Livorno nella serie, soprattutto nella seconda gara, eravamo in vantaggio di quattro punti, a seguito di un errore, ci hanno recuperato immediatamente. Beh, diciamo che essendo uno sport minore è fondato essenzialmente sulla passione, non ci sono interessi economici e commerciali, quindi chi gioca in campo ci mette tutta la passione possibile e basta. Quindi cito su tutti Andrea Giorgeschi e Gabriele Gori, che si sono distinti, insomma, nelle situazioni essenziali delle partite. Con tutti questi ragazzi come è stato? Come è stato? È stata una bella esperienza, anche perché io li conoscevo già da quando erano piccolini, quindi sono rientrato da un'esperienza esterna e mi sono ritrovato con tutti che erano piccolini e ora sono tutti più alti di me. Quindi è stato un bel rientro e un bel successo, visto che abbiamo finito l'anno come si voleva. Tra l'altro forse ha avuto qualche defaianza nelle ultime partite perché probabilmente sentivano la tensione. Sì, sicuramente anche quello per la poca inesperienza di certe situazioni capita, fa parte del gioco e deve far parte del gioco. Ci fa crescere, ci fa migliorare, ci fa affrontare poi le gare in futuro molto più sicure di noi. Che cosa intendete fare per il prossimo anno? Intanto pensiamo a festeggiare, poi dalla prossima settimana cominciamo a lavorare per rinforzare la squadra perché il salto di categoria lo impone a questo punto, per essere competitivi e continuare a crescere nelle nostre attività. Lei in questo momento è molto felice perché quando uno sport minore, che anche fa tra mille difficoltà, riesce a vincere un campionato così importante. Io come dico sempre l'importanza per il Comune di Arezzo ma per le istituzioni in generale è favorire lo sport a tutti i livelli per tutti. Ma quando portiamo a casa medaglie o trofei ovviamente non è che dobbiamo vergognarcene, anzi dobbiamo proprio vantarcene e festeggiarli. Quindi oggi siamo qui a festeggiare questa bellissima promozione di questo sport che minore non è perché poi basta vedere l'impianto, come è tenuto, basta vedere i ragazzi che ci sono, non direi proprio che è minore. Anzi io vengo, oggi ho visitato anche l'impianto del rugby, la prima partita di campionato, una bellissima vittoria anche per loro. Quindi gli sport ad Arezzo, sport minori non esistono, esistono tanti sportivi, tante associazioni che con il cuore e con tanti sacrifici portano avanti il movimento, i rispettivi movimenti e tanti ragazzi e tante ragazze che con la forza, con la passione si applicano nello sport e finché i nostri ragazzi e le nostre ragazze frequentano gli impianti sportivi sappiamo che passano il tempo in maniera costruttiva e salutare. Quindi dobbiamo investire sullo sport, tra l'altro su questo impianto abbiamo da poco investito alcune decine di migliaia di euro per l'impermeabilizzazione della tribuna c'era veramente bisogno, quindi noi abbiamo dato una mano alla società e la società ci ha ripagato con questo grande traguardo. Quindi Serie B, avanti tutta, forza Arezzo in ogni sport.